Dopo la bomba d'Andrea, questa notte due vetture sono andate a fuoco a Gioia del Colle. Si tratta di un Audi A6, vettura privata di un carabiniere ed un'auto di servizio dell'arma, entrambe parcheggiate in piazza Umberto, nei posti auto riservati ai militari. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Entrambi gli scheletri delle vetture distrutte dalle fiamme sono state rimosse. In corso le indagini per comprendere le cause e risalire ai responsabili.